e adesso voltiamo pagina e parliamo di un progetto che era nell'aria in realtà da anni ma che sembra divenuto realtà, il super comune che conterrà anche molti costi in più, in questo modo appunto si pensa anche di risparmiare, che unirà Incisa e Figline Valdarno. Il super comune del Valdarno Fiorentino sta prendendo sempre più corpo, Figline ed Incisa insieme per creare una comunità di oltre 23.000 persone con un risparmio anche sui costi della politica di oltre 100.000 euro ed i sindaci dei due comuni hanno ora consegnato una lettera al presidente della regione toscana Enrico Rossi in cui chiedono alla giunta di scrivere ed approvare una proposta di legge per arrivare alla fusione. Noi ce l'auguriamo che questo comune unico serva anche a migliorare tutti i servizi e in modo particolare i trasporti in un momento in cui sappiamo di tanti tagli a queste infrastrutture quindi il modello dei trasporti sarà uno dei tanti che ci auguriamo di migliorare. Insomma è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia in attesa di un referendum per capire le opinioni dei cittadini che però sembra abbiano già le idee chiare. Il sondaggio ha dato intorno all'85% di persone favorevoli. Detto questo c'è da lavorare per entrare in ogni condominio, in ogni famiglia e spiegare come questa sia l'opportunità anche per ripensare il rapporto tra cittadini e istituzioni e costruire insieme il nuovo comune. Un super comune che possa perciò fornire servizi migliori come la gestione delle 24 scuole, i musei, le biblioteche, i teatri ma anche tutto ciò che vive all'interno di un grosso centro. I tempi rapidissimi fra il 2012, ormai è già avviato, e il 2013. Una proposta di legge della regione toscana già pronta, andrà in giunta quanto prima, in consiglio e potrà essere un buonissimo esempio da seguire anche per molte altre realtà toscane. E chi farà il sindaco? Non è un problema, dicono. Chi farà il comune unico sarà un problema e probabilmente non riguarderà neanche noi.